I cioccolatini della ricerca di AIRC sabato 5 novembre torneranno in oltre 700 piazze italiane per sostenere il lavoro dei ricercatori. Immunità, prevenzione, microambiente e medicina di precisione sono infatti le sfide scientifiche della battaglia contro il cancro, sulle quali stanno lavorando circa 5.000 ricercatori, grazie alla collaborazione di 4 milioni e mezzo di sostenitori che ogni anno scendono a fianco all'AIRC, che in questi 50 anni ha dato un contributo determinante alla ricerca. Oggi infatti sempre più pazienti vengono curati e la diagnosi può essere accolta con la speranza e la fiducia di vincere la malattia. Anche i volontari dell'AIRC di Caltanissetta saranno presenti sabato 5 novembre in piazza Falcone Borsellino, dalle ore 10 alle ore 13 e 30, in corso Vittorio Emanuele, angolo piazza Marconi, dalle ore 16 alle ore 20 e 30. I cioccolatini rientrano in una serie di iniziative promosse da AIRC nella settimana dal 30 ottobre al 6 novembre e che riguardano la grande maratona RAI in cui i nostri più popolari conduttori televisivi e radiofonici fanno da testimonial e prevede inoltre una serie di incontri nelle università italiane allo scopo, quindi con gli studenti, allo scopo di portare a conoscenza gli studenti dei risultati della ricerca AIRC. Si conclude il 5 novembre con la distribuzione di questi cioccolatini. Si tratta di confezioni da 200 grammi o da 100 grammi, in cambio di un contributo di 10 euro o di 5 euro rispettivamente. La scelta del cioccolato non è casuale. È stato dimostrato infatti che il cioccolato ha delle proprietà protettive se contiene una quantità minima del 70% di cacao. Addirittura l'Istituto americano per la ricerca sul cancro l'ha inserito tra gli alimenti potenzialmente protettivi nei confronti del tumore perché è ricco di flavonoidi e di sostanze antiossidanti. Inoltre è stato dimostrato che il cioccolato è in grado, se presente nella dieta in quantità adeguata, di prevenire addirittura le lesioni precancerose, che sono quelle lesioni che possono dare luogo poi al manifestarsi di una forma tumorale. È in quanto prevengono le infiammazioni e aumentano la capacità di alcuni enzimi di riparare il DNA. Quindi è una scelta tutto sommato veramente il nostro dare questo contributo alla ricerca AIRC è anche un piacere, è una cosa utile che facciamo alla nostra salute.